Capitolo 18. 14 anni. Dopo essere uscita dalla doccia, Taylor iniziò a rovistare nella sua sacca e io mi sdraiai sul letto a osservarla. Tirò fuori tre diversi prendisole, uno bianco traforato, uno stampato hawaiano, uno di lino nero. Qual è meglio che mi metta stasera? Mi chiese come se fosse un esame. Ero stanca dei suoi esami e di dovermi mettere in continuazione alla prova. Dobbiamo semplicemente cenare, Taylor. Non faremo niente di particolare. Taylor scosse il capo, facendo oscillare avanti e indietro l'asciugamano che aveva in testa. Andiamo sul lungomare però, ricordi? Dobbiamo farci belle, ci saranno dei ragazzi. Lo scelgo io il vestito per te e va bene? Un tempo, quando era Taylor a scegliere i vestiti per me, mi sentivo il brutto anatroccolo trasformato per il ballo studentesco ed era un fatto positivo. Ora mi sentivo un'occa sciocca che non sa come vestirsi. Non avevo portato con me nessun vestitino, in realtà non ne avevo e non mi era mai passato per la testa di comprarmene. A casa ne avevo due. Uno me lo aveva comprato la nonna per Pasqua, l'altro avevo dovuto comprarlo in occasione del diploma di terza media. Ultimamente non c'era niente che mi stesse bene. I miei abiti mi sembravano tutti troppo stretti. I vestitini non mi erano mai interessati un granché, ma vedere i suoi disposti in quel modo sul letto mi fece provare invidia. Non ho intenzione di mettermi in ghingeri, le dissi. Fammi vedere che vestiti hai, insistette lei avvicinandosi all'armadio. Taylor ti ho detto di no, vengo vestita così. Indicai i pantaloni al ginocchio e la maglietta con la scritta Cousins Beach. Taylor fece una smorfia, ma si allontanò dall'armadio e tornò ai suoi tre prendisole. Va bene, fa come ti pare, bisbetica. Allora io quale mi metto? Sospirai. Quello nero, risposi chiudendo gli occhi. Ora sbrigati a vestirti. Quella sera mangiammo capesante e asparagi. Quando era mia madre a cucinare c'era sempre qualche tipo di pesce con olio e limone con un contorno. Sempre. Susanna cucinava solo di tanto in tanto. Perciò, a parte la prima sera in cui serviva sempre la buiabess, non sapevi mai cosa ti sarebbe toccato. A volte passava tutto il pomeriggio ad armeggiare in cucina per preparare cose che non avevo mai visto, come il pollo con i fichi alla marocchina. Tirava fuori il suo libro di cucina, quello con le pagine unte e le note a margine, che mia madre prendeva sempre in giro. Oppure ci preparava le omelette al formaggio con ketchup e toast. Anche noi bambini avremmo dovuto cucinare una sera settimana, ma in pratica portavamo in tavola sempre panini e pizze surgelate. Gran parte delle sere, però, ognuno mangiava quello che voleva all'orario che preferiva. Mi piaceva quell'aspetto della casa al mare. A casa nostra cenavamo sempre alle sei e mezza spaccate. Qua era tutto più rilassato, perfino mia madre. Taylor si sporse in avanti e disse, Laurel, qual è la cosa più folle che tu e Susanna avete fatto quando avevate la nostra età? Taylor si rivolgeva alle persone come se fosse a un pigiama party, sempre. Lo faceva con adulti, ragazzi, bariste, chiunque. Mia madre e Susanna si guardarono e sorrisero. Lo sapevano, ma non volevano rivelarlo. Mia madre si asciugò le labbra con il tovagliolo e rispose, Entrammo di nascosto in un campo da golf e ci piantammo delle margherite. Io sapevo che non era vero, ma Steven e Jeremiah risero. Steven disse con il suo fastidioso tono saccente, voi due eravate noiosi anche da giovani. Io la trovo una cosa dolcissima, replicò Taylor, versando una goccia di ketchup sul piatto. Taylor metteva il ketchup su qualsiasi cibo, uova, pizza, pasta, tutto. Conrad, che pensavo non avessi ascoltato, aggiunse, state mentendo, quella non è la cosa più folle che avete fatto. Susanna alzò le mani, come a dire, mi arrendo. Anche le madri hanno il diritto ad avere i propri segreti, rispose. Io non vi chiedo di rivelarmi i vostri, giusto? E invece sì, ribatteggere Maya puntandole contro la forchetta. Me lo chiede in continuazione, se avessi un diario lo leggeresti. Non è vero, protestò lei. Mia madre disse, secondo me sì. Susanna la fulminò con lo sguardo. Non lo farei mai. Poi guardò Conrad e Jeremiah seduti uno accanto all'altro. D'accordo, forse lo farei, ma leggerei solo quello di Conrad. Lui è così bravo a tenere tutto dentro, non so mai cosa pensa. Ma non tu, Jeremiah. Tu, bambino mio, hai il cuore in mano. Non è vero, protestò lui, infilzando una capasanta nel piatto. Anch'io ho i miei segreti. Fu allora che intervenne Taylor. Ma certo, Jeremy! Esclamò con il suo rivoltante tono civettuolo. Lui le sorrise, facendomi andare di traverso un asparago. A quel punto dissi, io e Taylor vorremmo andare sul lungomare stasera. Una di voi due può darci uno strappo. Prima che mia madre o Susanna potessero rispondere, Jeremiah disse, oh, il lungomare! Faremmo bene ad andarci anche noi, ragazzi. Poi, voltandosi verso Conrad e Steven, aggiunse, giusto? Di solito sarei stata entusiasta all'idea che i ragazzi volessero andare dove andavo io. Ma non quella volta. Sapevo che non ci venivano per me. Guardai Taylor che d'improvviso fu tutta presa a tagliare a pezzettini le sue capesante. Pure lei aveva capito di essere l'oggetto del loro interesse. Il lungomare fa schifo, disse Steven. Conrad aggiunse, io non sono interessato. A ogni modo nessuno vi aveva invitato, replicai. Steven alzò gli occhi al cielo. Non c'è mica bisogno dell'invito per andare sul lungomare. Ci si va e basta. Viviamo in un paese libero. Viviamo in un paese libero? Ripete mia madre. Voglio che tu rifletta a fondo sulla tua affermazione, Steven. Che mi dici delle libertà civili? Possiamo davvero dire di essere liberi se... L'Oreal ti prego, la interruppe Susanna scuotendo il capo. Non parliamo di politica a cena. Non c'è momento migliore per discutere di politica, replicò tranquillamente mia madre. Poi mi guardò. Io con il solo movimento delle labbra le ordinai. Ti prego piantala. E lei sospirò. Era meglio fermarla subito, prima che iniziasse davvero. D'accordo, basta politica. Io dopo vado in libreria in centro. Mi accompagno io. Grazie mamma, le risposi. Saremo solo io e Taylor. Jeremiah mi ignorò e si voltò verso Steven e Conrad. Forza ragazzi, insistette. Sarà fantastico. Era tutto il giorno che Taylor definiva ogni cosa fantastica. Va bene, ma io vado alla sala giochi, rispose Steven. Tu Conrad? Jeremiah guardò il fratello, che scosse il capo. Dai Conrad, lo spronò Taylor, punzecchiandolo con la forchetta. Vieni con noi. Lui scosse la testa e Taylor fece una smorfia. D'accordo, ci divertiremo anche senza di te. Non preoccuparti per lui. Si divertirà un sacco a restare qua a leggere l'enciclopedia britannica, commentò Jeremiah. Conrad lo ignorò, ma Taylor ridacchiò e si mise i capelli dietro le orecchie. Fu così che capì che ora gli piaceva Jeremiah. Poi Susanna disse. Non uscite di casa senza qualche soldo per il gelato. Mi accorsi che era felice del fatto che facessimo gruppo, a eccezione di Conrad, che quell'estate preferiva starsene per conto suo. Niente la rendeva più felice di escogitare attività per noi ragazzi. Secondo me sarebbe stata un'ottima animatrice di villaggi turistici. Mentre eravamo in auto ad aspettare che arrivassero mia madre e i ragazzi, sussurrai. Sì. Insavo che ti piacesse Conrad. Taylor alzò gli occhi al cielo. Mamma mia, Conrad è proprio noioso. Credo che andrò dietro a Jeremy. Si chiama Jeremiah, risposi in tono acido. Lo so. Poi mi guardò e spalancò gli occhi. Perché? Adesso ti piace lui? No. Sospirò con impazienza. Belli, devi sceglierne uno, non puoi avere tutti e due. Lo so, risposi bruscamente. E per tua informazione non voglio nessuno dei due. E poi loro mi vedono allo stesso modo di Steven, come una sorellina. Taylor mi tirò il collo della maglietta. Magari se tu mostrassi un po' le... Le allontanai la mano. Io non voglio mostrare proprio niente e ti ho detto che non mi piace nessuno dei due. Non più. Dunque, non te la prenderai se vado dietro a Jeremy, giusto? Mi chiese. Capì la ragione per cui me lo aveva domandato. Così l'avrei assolta da qualsiasi colpa futura. Non che Taylor riuscisse a sentirsi in colpa, comunque. Perciò le risposi... Se ti dicessi che me la prenderei, ti fermeresti? Lei ci riflettè per un secondo. Forse, se la cosa ti stesse veramente a cuore, a quel punto andrei dietro a Conrad. Sono qua per divertirmi, belli. Sospirai. Se non altro, era sincera. Avrei voluto ribattere... Pensavo che tu fossi venuta qua per divertirti assieme a me. Ma non lo feci. Vagli pure dietro, le dissi. Non mi interessa. Taylor sollevò un sopracciglio. E vai, affare fatto! Aspetta! Le afferrai il polso. Promettimi che ti comporterai bene con lui. Ma certo, io mi comporto sempre bene. Mi diede una pacca sulla spalla. Sei così apprensiva, belli. Io voglio solo divertirmi. Fu allora che mia madre e i ragazzi uscirono di casa e per la prima volta non ci furono litigi per chi dovesse sedersi di fianco al conducente. Jeremiah lasciò il sedile davanti a Stephen senza fare storie. Quando arrivamo sul lungomare, Stephen andò subito alla sala giochi e passò tutta la sera là. Jeremiah venne in giro con noi e salì perfino sulla giostra, anche se io sapevo che la considerava patetica. Si distese sulla slitta e finse di dormicchiare mentre io e Taylor andavamo su e giù sui cavalli. Il mio un palomino dorato, il suo uno stallone nero. Black Beauty era ancora il suo libro preferito, anche se non voleva ammetterlo. Poi Taylor convinse Jeremiah a giocare al lancio della moneta e a regalarle il premio. Un peluche di Titti. Jeremiah era un esperto nel lancio della moneta. Titti era enorme, alto quasi quanto lei. Fu lui a portarlo in giro per lei. Non sarei mai dovuta andare con loro. Sarebbe stato facile prevedere l'intera serata, compresa la sensazione di essere invisibile. Per tutto il tempo desiderai di essere a casa, ad ascoltare Conrad che suonava la chitarra attraverso la parete di camera mia o a guardare i film di Woody Allen con Susanna e mia madre. E Woody Allen non mi piaceva neppure. Mi domandai se sarebbe stato così anche il resto della settimana. Avevo dimenticato quell'aspetto di Taylor, il modo in cui diventava quando voleva qualcosa, estremamente motivata, risoluta e determinata. Era appena arrivata e si era già dimenticata di me.